Assessore, una bella notizia per l'edilizia popolare della città di Chieti perché grazie all'arrivo di fondi Cipe per 1.800.000 euro ci sarà una riqualificazione proprio delle case popolari. Sì, ci sarà la riqualificazione di 55 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Credo che questo è il primo intervento dopo 50 anni di risorse pubbliche che vengono messe a disposizione per garantire il diritto alla casa, ma una casa dignitosa. Quindi siamo soddisfatti. Un arrivo di fondi da parte del Cipe che ovviamente permetterà questi lavori, ma in prospettiva voi vi aspettate che possano arrivare altri fondi per fare altri lavori? Ma noi come stiamo facendo da quando si è insediata la Giunta Ferrara ci stiamo ficcando in qualsiasi canale di finanziamento. Infatti questi soldi arrivano grazie alla progettualità del nostro comune che ha consentito di accedere a questo canale di finanziamento. Se ce ne saranno negli altri parteciperemo a tutti gli avvisi pubblici che verranno pubblicati. Per chi è di Chieti è a metà di Madonna degli Angeli, parliamo di Via della Cace, Via delle Robinie, cioè un quartiere popolare storico di Chieti. Credo che riuscirà un bel complesso residenziale con spazi comuni, spazi per bambini, spazi per anziani, per favorire anche la socializzazione, oltre che il diritto alla casa in quanto tale. Quando partiranno i lavori? Mi auguro che i lavori potranno partire entro la fine di quest'anno, però adesso aspettiamo. Intanto godiamoci il fatto che siamo riusciti ad accedere a questo finanziamento, poi ci sarà la fase della progettazione. Credo che nel giro di due o tre anni l'intervento sarà definitivo.